Siamo all'Anuvio dove la sinergia tra l'Ater e il Comune ha dato il via al progetto di riqualificazione delle casette, i nove edifici fatiscenti dell'edilizia residenziale pubblica, in luogo dei quali sorgeranno edifici moderni per dare risposta all'emergenza abitativa locale. Qualche perplessità in merito al fatto che l'Anuvio è un comune archeologico, però ci hanno rassicurati sul fatto che i lavori partiranno a breve. Siamo all'Anuvio per quello che è l'esempio di un circolo virtuoso. L'Ater, l'Ente Ater e il Comune hanno lavorato bene. Infatti siamo qui alla presentazione di un progetto di riqualificazione di edilizia urbanistica. Di che si tratta e quanto ammonta il valore di questo progetto? Benissimo, grazie. Il valore del progetto ammonta circa 6 milioni. È un progetto che nasce dalla participazione Ater e Comune di Lanuvio a un bando regionale che risale al 2008. Oggi siamo contenti di poter, con soddisfazione, dire che l'iter amministrativo si è concluso e in tempi brevi, ritengo nel giro di circa un mese, dovremmo andare in gara, dovremmo fare una gara pubblica per assegnare l'appalto e quindi poi, esaurita la gara, iniziare con i lavori. Il progetto consiste nella demolizione delle attuali palazzine che sono di epoca post-guerra mondiale con una tecnica costruttiva antiquata e con materiali anche di scassa qualità. Quindi si tratta di demolire queste palazzine per comprensivi 32 alloggi, mentre ne verranno ricostruiti 54. Quindi questo è l'elemento più importante, è un'opera di riqualificazione urbana di un comprensorio di Lanuvio, è un'opera che consente anche di offrire dei servizi alla città, perché oltre alle residenze ci saranno anche dei servizi pubblici a disposizione dei cittadini e soprattutto ci consente di aumentare la disponibilità residenziale, perché si passerà da 32 alloggi a 54 alloggi, quindi di fronteggiare in qualche modo l'emergenza abitativa che vi è in questa zona. Il bando regionale prevede delle tempistiche ben precise, anche stringenti, a quando la realizzazione e la consegna? Si può ipotizzare una data? Questa è una domanda difficile, rischio di dare una risposta che poi magari non potremo rispettare. Sicuramente, come diceva lei, c'è un monitoraggio molto stringente, quindi ora, come dire, amministrazione, comune e ATER non hanno più scuse. Noi crediamo di poter presentare il bando di gara entro il mese di maggio e poi ci sono dei tempi di gara che in qualche modo sono standard decisi dal codice degli appalti, quindi i lavori partiranno non appena si esaurirà la gara. Comunque, io ho un impegno col sindaco di Lanuvio a dare il massimo della priorità e il massimo dello sforzo per poter realizzare più presto questo progetto. Per parte, un bel progetto di riqualificazione per quanto riguarda la risposta all'emergenza abitativa. Qual è la situazione che avete trovato, che avete affrontato e di cosa si tratta? Dunque, noi abbiamo trovato una situazione di forte degrado. Si tratta di 32 alloggi costruite nel secondo dopoguerra in emergenza dal genio civile. Si tratta di materiali poveri, c'è presenza di amianto, risalita capillare. La situazione è veramente drammatica e proprio alla base del finanziamento poi concesso dal Ministero delle Infrastrutture c'era proprio la necessità di andare a intervenire in tutta Italia, quindi in particolare anche a Lanuvio, su queste situazioni di forte degrado. Si è previsto, in questo caso visto che era impossibile il recupero, anche vista la scarsa qualità architettonica dell'edificato, fatto in fretta e furia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è pensato a un intervento di riqualificazione che prevedesse la completa demolizione, per fasi ovviamente, per non creare anche disagio ai residenti, dei nuovi edifici e ricostruendone sei edifici nuovi, chiaramente con tutte le caratteristiche del caso, quindi strutture in cemento armato antisismiche, bioedilizia, pannelli solari fotovoltaici, produzione acqua calda, infissi a taglio termico, quindi una situazione sicuramente che porta all'avanguardia questo quartiere e ovviamente poi tutte le urbanizzazioni, una vasta piazza con un edificio pubblico sovrastante, per cui riporta anche un clima di paese in quella zona che invece era semplicemente un dormitorio e una bellissima piazza panoramica che guarda verso il mare, perché quella zona fra l'altro è una zona molto bella. Per quanto riguarda invece i residenti, quelli che attualmente vivono in questi edifici fatiscenti, come li ha definiti lei, avete pensato a dove spostarli? Sì, allora siccome il progetto prevede la demolizione di fabbricati in cui si siedono tre o quattro famiglie per ogni edificio e noi invece ogni edificio ha dodici alloggi, noi dobbiamo spostare soltanto il primo edificio con tre famiglie in alloggi provvisori che poi sono già i recuperi che sta facendo l'Ater nei sottotetti qui all'Anuvio, quindi la trasformazione di sottotetti in appartamenti per circa un anno, il tempo di costruire il primo edificio, dopodiché il progetto si autoalimenta perché al posto di uno da tre ne mettiamo uno da dodici, quindi spostiamo gli altri, poi man mano che demoliamo, per cui non ci sarà più nessun tipo di problema per questa rotazione. Quindi soltanto i primi tre avranno questo piccolo disagio e poi si sposteranno sicuramente in appartamenti migliori di quelli dove risiedono temporaneamente e poi in quelli belli e definitivi alla fine. La nuvia è un comune da definire archeologico e voi però avete condotto dei progetti approfonditi che vi hanno consentito di ricevere il sì della Regione, il sì del Ministero, il sì dell'Anci. Quali sono invece le osservazioni tecniche che vi sono state poste alla consegna? Allora, diciamo che tutti i pareri hanno una serie di prescrizioni le quali per la maggior parte sono osservazioni, le dico a qualcuna, piantare alberi di tipo locale, quindi non alberi al di fuori di quelli autoctoni, le pavimentazioni devono essere fatte in un certo modo, tutte cose che poi fra l'altro nel progetto sono previste perché sono un po' una routine che ripetono tutti gli enti quando mettono i pareri, prescrivono che i pannelli fotovoltaici siano a specchio, in modo che non diano quell'effetto fastidioso. Quindi queste sono cose abbastanza di routine. Per quanto riguarda la sovrintendenza archeologica, ha previsto soltanto che prima di iniziare vengano fatti dei sondaggi per verificare se ci siano delle presenze archeologiche da tutelare. Ovviamente, siccome abbiamo fatto un approfondito, approfondita ricerca geologica, anche perché è prevista per legge, per poter poi andare a verificare la consistenza del terreno, abbiamo fatto dei sondaggi. Diciamo che in quella zona, mediamente, ci sono dai 6 ai 2 metri di riporto perché quella zona fu la discarica delle demolizioni, dei bombardamenti del centro storico. Per cui io credo che, tranne in una piccola zona dove il riporto si abbassa a soli 2 metri, nell'altra parte non troveremo niente perché ci sono 6 metri di riporto, detriti, delle demolizioni. Per cui quello che viene paventato da qualcuno che troveremo qui e troveremo là, la vedo difficile. Anche perché la quota dei basoli che stanno all'altra parte della strada oppure delle mura ciclopiche latine si trova comunque a una quota inferiore a quella di intervento. Per cui credo che grandi problemi non ci dovranno essere. Comunque noi siamo disponibili, io come rappresentante dell'Atero ovviamente, a essere presenti e a vedere la soluzione del caso. Ripeto, l'unico rischio vero lo abbiamo nell'autorimessa che è interrata. Gli altri edifici sono tutti quanti fuori terra e non hanno il piano interrato per cui non viene neanche effettuato lo scavo. Verranno fatti questi sondaggi geologici e poi credo che non ci dovrebbero essere problemi. Se venissero invece trovati dei reperti archeologici, come diceva lei, come qualcuno già paventa, quale sarebbe il danno economico e sociale arrecato al progetto o al Comune di Lanuvio? Dipende dal tipo di rinvenimento perché la sovrintendenza si comporta in modo diverso a seconda del tipo di rinvenimento archeologico. Se si tratta di rinvenimenti asportabili, verranno sicuramente asportati e messi nel museo o dove riterrà la sovrintendenza. Se si dovessero trovare degli elementi molto cospicui, delle mura, delle cose, si vedrà in quel caso come intervenire per cercare di sistemare la questione. Però, ripeto, secondo me l'unico edificio che potrebbe in linea teorica, puramente teorica, avere questo problema è l'autorimessa. Per gli edifici residenziali, secondo me, non c'è nessun problema di questa natura perché, ripeto, lo scavo sarà di appena 50 cm e 50 cm è tutto riporto assolutamente. Quindi problemi archeologici non credo che ci dovrebbero essere. Nel caso dovesse, per qualche motivo, fermarsi tutta l'opera, chiaro che questo comporterebbe un danno economico notevole, ma io confido che ciò non possa avvenire. Sindaco, quali sono i benefit di questa nuova iniziativa per quanto riguarda il Comune, il territorio, anche le attività economiche propulsive di zona? Come diceva prima il Presidente, il Commissario Nucara, quindi è importante. Quando collaborano le pubbliche amministrazioni si ottengono dei circoli virtuosi, quindi è importante. Siamo riusciti a portare a termine questo progetto che partiva dal 2008. Quindi è importante che in momenti di crisi, come oggi, riusciamo a dare risposte in termini abitativi, in un momento di ammortizzatori sociali, le persone, adesso con far bisogno, come abbiamo già detto altre volte, molto spesso persone non riescono più a pagare i mutui, vengono sottratte le abitazioni. Quindi è importante questo risultato dal punto di vista sia economico sia sociale per il Paese. Quali sono più o meno le cifre, i dati dell'emergenza abitativa nel Comune di Lanuvio? Ma guarda, è difficile. In momenti così è in fieri continuamente. Quindi di giorno in giorno le persone vengono allontanate dalle abitazioni, quindi vengono mandate da casa o per ritiro da parte delle banche, delle case, non riescono a pagare i mutui, oppure per quanto riguarda le persone non riescono più o meno a pagare gli affitti, quindi vengono allontanati. Ma non abbiamo sotto mano un problema che varia in continuazione, di giorno in giorno quasi. Abbiamo persone che vengono ai servizi sociali in carico perché magari sono stati appunto allontanati dalle proprie abitazioni, quindi c'erano dei sfratti esecutivi. Sindaco, questo tipo di riqualificazione, oltre ad offrire appunto alloggi alle persone disagiate, prevede anche una vendita di alloggi a canone calmierato, quindi un'altra bella possibilità. Tra l'altro il finanziamento regionale non è bastato a coprire tutti i lavori perché una parte è stata anche garantita dal comune? In parte sì. Ecco, per quanto riguarda il discorso che diceva lei, al di là delle persone, magari proprio la fase più grave della crisi abitativa, pur per quanto riguarda la vendita dei prezzi calmerati per giovani coppie, persone che magari avrebbero delle opportunità per quanto riguarda attualmente per le famiglie, eccetera.